Acqua che entra dal tetto. Due persone sono state evacuate e altre potrebbero essere costrette a lasciare le proprie abitazioni in due condomini di pallanza. È successo in un palazzo di piazza Giovanni XXIII davanti alla scuola di polizia penitenziaria e in un altro in via Crocetta vicino all'ospedale Castelli. È proprio in quest'ultimo che i due anziani sono stati fatti uscire e sono già stati sistemati dall'amministrazione comunale in albergo per la notte. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale, l'assessore ai lavori pubblici Nicolo Scalfi che spiega si tratta di conseguenze del tornado del 12 agosto. I lavori di risistemazione dei tetti non si sono ancora conclusi e con le forti precipitazioni delle ultime ore l'acqua è entrata nelle case, pioveva nelle stanze come comune anche se si tratta di abitazioni private ci siamo subito attivati per valutare le situazioni più critiche mettendo a disposizione gli alberghi per chi non può stare a casa ma non è facile convincere le persone ad abbandonare i propri appartamenti. Tutto sarà monitorato nelle prossime ore, intanto l'amministrazione comunale solleciterà gli amministratori dei condomini a provvedere a terminare al più presto i lavori.